Musica Primo faccia a faccia ieri sera tra i consiglieri del Partito Democratico e il sindaco Nicola Sanna, dopo la crisi che di fatto si è aperta sabato scorso con le dimissioni di altri tre assessori. Una riunione fiume del gruppo in cui non sono mancati i miei colpi, i diktatei giacchius, senza esclusione di colpi, ma in un confronto pacato tra consiglieri e primo cittadino. Riunione chiusa con un documento firmato dalla capogruppo Carla Fundoni, tutti i consiglieri e il sindaco, documento nel quale si legge la presa di coscienza delle criticità dell'amministrazione. Il gruppo del PD valuta con grande preoccupazione la difficoltà di imprimere una svolta e un nuovo impulso all'attività dell'amministrazione, si legge nel documento, di dare nuova sostanza al rapporto con la città e le sue rappresentanze sociali ed economiche, deteriorato da scelte sbagliate o poco comprese. Oltre all'autocritica, nel documento non mancano i richiami alla responsabilità dell'intera maggioranza. Come è evidente, la difficoltà è trasversale riguardo al PD, che ha la prevalente presenza della maggioranza e responsabilità, ma non esclude le liste civiche e i cosiddetti monogruppo, che rappresentano un aggregato eterogeneo a cui è richiesto, al pari del PD, un contributo politico e programmatico all'altezza della sfida. Inoltre qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'opposizione emerge chiaro dall'atto sottoscritto ieri sera. La responsabilità riguarda anche la stessa opposizione, che non esce da un confuso vociare senza idee. E infine l'obiettivo firmato da tutti. Con questo spirito, il gruppo del PD, con i livelli della direzione politica del partito, sono impegnati a una profonda verifica delle condizioni necessarie per il superamento dello stallo attuale e nella ricerca delle condizioni politiche e programmatiche sulle quali si possa rifondare un patto tra sindaco e consiglieri, fra consiglieri e cittadini. Un incontro chiaro e schietto, che denota il grande senso di responsabilità del gruppo consigliare del PD, ha detto la capogruppo Fundoni, raggiunta al telefono, che è impegnato a definire con sindaco e alleati un percorso trasparente e proficuo, la riduzione di quanto avviene a rissa da pollaio dentro il PD, alla maggioranza o a mere questioni di poltrone o personali qualifica chi le usa, ovvero una minoranza che non esce da un confuso vociare. Il documento intanto verrà presentato oggi nella riunione di maggioranza convocata per stasera, dopo la riunione del gruppo PD con il segretario provinciale e cittadino. Non bastano ai sindacati le rassicurazioni della regione sulla sorte dei minatori di Olmedo. L'assessorato all'industria ha stanziato 678 mila euro per la manutenzione e la bonifica del sito del minerario dismesso, affidandone l'esecuzione ai minatori, i quali fra le altre cose dovrebbero smaltire i cumuli di materiale di scarto derivati dall'estrazione della bauxite. I segretari di FEMCACIS, le UGL chimici di Sassari, Luca Velluto e Simone Testoni, dopo un'assemblea svoltasi presso la miniera, ritengono insufficiente il provvedimento regionale a garantire la salvezza occupazionale dei lavoratori. Chiediamo l'avvio del bando per la concessione dell'attività estrattiva e un incontro urgente con gli assessori dell'industria e del lavoro e con il sindaco di Olmedo per dar gambe al progetto, scrivono i segretari in un comunicato. Dopo la rinuncia alla concessione che una multinazionale greca aveva ottenuto nell'ultima gara, la situazione è rimasta invariata per i lavoratori che finora avevano goduto dei sussidi di mobilità, ora scaduti o in scadenza. Per oltre un anno i minerari avevano protestato davanti ai cancelli perché nonostante ci fosse una società autorizzata all'estrazione, l'attività non fosse mai partita. I segretari, affermano Velluto e Testoni, continueranno a vigilare sulla vicenda fino a quando non si passerà ai fatti. In un tavolo del meeting ministeriale sui trasporti del G7 Italia a Cagliari, Sardegna, Corsica e Baleari hanno firmato il patto per i trasporti tra le isole del Mediterraneo. L'accordo è articolato in tre punti, contenuto in una lettera consegnata al ministro Graziano Del Rio perché la sottoponga al vertice dei ministri del G7 e in seguito alla comunità europea. Su iniziativa del presidente Pigliaro, i capi delle giunte di Corsica e Baleari, Gilles Simeoni e Francina Armengol, hanno firmato il documento sul seguito di una serie di incontri fra le regioni insulari che hanno toccato i temi dell'ambiente e dell'economia. I punti dell'accordo sono il riconoscimento dello stato di perifericità associato alla condizione insulare, lo sviluppo dei trasporti tra isole per creare un vero e proprio sistema insulare del Mediterraneo. Bisogna cambiare un regolamento europeo che ci impedisce di accedere sia ai finanziamenti per l'ultraperificità, sia a quelli per le isole nella fascia dei 150 km dalla costa, hanno spiegato i firmatari. Nelle proposte dal portare al G7 e all'Unione Europea, ha sottolineato Simeoni, si è inserita quella di una metro aerea. Dobbiamo costruire, ha detto, una mobilità tra le isole del Mediterraneo, usando le stesse opportunità offerte per la continuità territoriale interna. Ma l'Unione Europea deve rendere possibile il percorso. Marchi contraffati in un negozio di Porto Rotondo, la fiorente attività è stata scoperta dai finanzieri del gruppo di Olbia, che hanno denunciato un imprenditore italiano. Nel suo punto vendita, il commerciante vendeva articoli di abbigliamento e accessori per telefoni cellulari con marchi di notte case di moda, prevalentemente Chanel, falsi. Una successiva perquisizione del locale da parte dei Baschi Verdi ha portato al rinvenimento al sequestro di macchinari e apparecchiature elettroniche, che permettevano di apporre la griffa sui prodotti che venivano smerciati in due distinti negozi, ma sempre della stessa società. Complessivamente sono stati sequestrati 196 articoli contraffati, una pressa, una stampante professionale, un computer e un supporto hardware su cui erano contenuti loghi e immagini dei marchi da porre sui prodotti semilavorati. Al termine delle attività, l'uomo SR di 57 anni, originario di Roma, con precedenti di polizia nello specifico settore, è stato deferito all'autorità giudiziaria per produzione e vendita di merci con marchi contraffati. Eminas, la rete a cui in soli tre mesi hanno aderito circa 10.000 donne, esprime una netta e inequivoca contrarietà alla proposta di legge regionale presentata dai consiglieri Gennaro Fuoco e Marcello Ruh sulla riforma della Commissione regionale pari opportunità. L'organismo risulterebbe dimezzato nella composizione, con anche una riduzione del gettone di presenza, già da tempo considerato esiguo e insufficiente. Eminas esprime viva preoccupazione e sconcerto, in quanto non di ipotesi di riforma si tratta, come da tempo e da più parti richiesto, ma di un brutale colpo di mannaia, che punta ad un'ulteriore mortificazione del ruolo e delle prerogative della Commissione pari opportunità, attualmente di tipo consultivo e propositivo, ma priva di poteri reali. La legge istitutiva risale al 1989, quasi 30 anni fa. Stupisce e sconcerta allora, riprende Eminas, il balzo indietro che si vuole fare in Consiglio regionale, mentre altre importanti istituzioni, come il Comune di Cagliari, si dotano di una commissione per pari opportunità, in tutto e per tutto uguale alle altre commissioni consigliari. Con questa proposta, insiste Eminas, si assiste all'ennesimo vile tentativo di impedire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale della massima sise legislativa isolana. Cogliamo l'occasione di questo maldestro tentativo, conclude la rete Eminas, per rilanciare l'appello al presidente Gianfranco Ganau e ai capi gruppo per un incontro e per l'immediata approvazione dello stralcio della doppia preferenza di genere, a garanzia di legittimità e costituzionalità della legge elettorale sarda. Contestualmente si chiede uno sforzo serio per elaborare una proposta di riforma della Commissione regionale pari opportunità che tenga conto delle profonde modifiche intervenute in 30 anni di vita politica e sociale, di legislazione nazionale ed europea. Nuovi appuntamenti nel percorso del Sardegna Pride a manifestazione e occasione della giornata mondiale per le libertà e i diritti di tutti. Weekend in piazza con Vladimir Lussuria e Vincenzo De Lucia domani, 23 giugno, a Santa Teresa Gallura, prima tappa del Sardegna Pride in Tour. Dalle 22 in piazza Vittorio Emanuele Latrave nell'Occhio condurrà una serata di spettacoli e musica insieme a Vladimir Lussuria, l'imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, Darla Fracci e la musica dei Barrio Sud e gli Hollywood Party. Previsti interventi dei rappresentanti del Movimento Omosessuale Sardo del Comune di Santa Teresa di Gallura. Per il Movimento Omosessuale Sardi sarà il primo evento di piazza nella località gallurese che ha reagito con grande entusiasmo all'iniziativa. Nelle spiagge e in alcune attività commerciali sono apparse bandiere, palloncini e altri oggetti rainbow. Sabato 24 il Sardegna Pride si sposterà a Sassera in piazza Santa Caterina con l'Allacareddu dove dalle 21 presenterà il libro di Vladimir Lussuria Il coraggio di essere una farfalla. Uno sguardo trans sulle grandi questioni transgeniche del nostro tempo. Sul palco anche Vincenzo De Lucia che imiterà Maria De Filippi, Mara Maionchi e Mara Venier. Chiudono la serata Tania e Mara a versione Tamarra di Tiziana e Michele alias Lucido Sottile. A seguire musica con DJ Graffio Alla fine della presentazione Vladimir Lussuria incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del libro. Dalle universiadi di Catania arriva un bronzo per un'atleta isolana del Taekwondo. Solo due nazionali hanno fatto meglio di lei. Ho cominciato a fare Taekwondo quando avevo sette anni perché mio padre è maestro di Taekwondo e mi ha trasmesso lui questa passione e soprattutto l'amore per questa disciplina. Come gestisci gli studi e la tua passione? Do il giusto spazio sia a una cosa sia all'altra cerco di non trascurare niente perché secondo me sono entrambi molto importanti. Ti aspettavi questo esploare? Io non me l'aspettavo assolutamente è stata la mia prima gara importante fuori dalla Sardegna quindi sono andata più che altro per mettermi alla prova e poi è stata una bella sorpresa quindi sicuramente continuerò ad allenarmi e a gareggiare. a Grazie a tutti.